È stato emozionante vincere su questo percorso che domani ospiterà i campionati italiani giovanili. Devo dire che è un percorso veramente impegnativo, disegnato direi perfettamente. Ha una parte sia veloce sia una parte tecnica. È stata dura perché c'è tanto dislivello rispetto alle gare di ciclocross a cui siamo normalmente abituati. Sono partita in testa e poi ho preso subito un po' di vantaggio e ho gestito la gara. La dedica è sempre importante. Allora ci sono mille persone a cui dovrei dedicare la vittoria. La squadra, Alessia e Valerio. Valerio è il mio meccanico e mi segue da quando sono praticamente alta così. A loro due.